Un percorso iniziato con i ragazzi e le ragazze del progetto Agjust e appunto la conclusione di un progetto da loro portato avanti grazie anche alle loro diverse competenze, le loro diverse skills che hanno messo insieme per un obiettivo comune. Poter esprimere la mia voce, dare la mia opinione e poter condividere con ragazze e ragazzi interessi sulle stesse policy e sul crearne nuove. Pensare a delle soluzioni concrete che possano aiutare il nostro pianeta. Essere coinvolta da ActionAid nell'Hackathon per me ha significato la conclusione di un percorso iniziato con i ragazzi e le ragazze del progetto. Essere parte di Agjust mi ha permesso di conoscere maggiormente che cos'è la giustizia climatica, come si può combattere, come si può far conoscere e inoltre conoscere altri paesi europei, in particolare quelli dell'est che hanno problematiche molto diverse delle nostre e quindi avere una visione completamente differente e rimetterla in discussione. Ci ha dato anche la possibilità di individuare quello che è un obiettivo comune e cioè quello per l'Europa di prendersi le proprie responsabilità verso invece il Global South. Il cambiamento per me è un cambiamento portato avanti dalle persone che credono in un mondo più eco, più giusto, un mondo femminista e un mondo più verde ovviamente. Una società che riesce a mettere insieme sia la giustizia climatica che la giustizia sociale per essere una società più inclusiva. È un processo di decostruzione, quindi andare a rivedere quelle che sono le nostre realtà e quelle che sono le nostre visioni riguardo il mondo. Siamo molto molto felici di aver vinto questo hackathon di ActionAid. Abbiamo portato un progetto che legava il tema del cambiamento climatico a l'arte. Grazie a tutti.